Ragazzi siamo direttamente al Monte Cupiolo per la più grande sfida della storia Facciamo vedere il paesaggio, paesaggio stupendo, bufera di neve Vediamo il primo sfidante Luca Motetta Cosa ha scelto lei oggi? Beh io oggi ho scelto lo sci Facciamo vedere lo sci di Motettone Eccolo qui Lunghi come mai Devo assolutamente battere questi due miei compagni Sta preparando la GoPro Attenzione al secondo sfidante Polbo Dalla regia E lei che mezzo ha usato signor Bot Userò uno ancora più bello Che al momento sta usando Facciamolo vedere Col volante Come hai scelto il volante? Beh il volante ci vuole perché comunque sia noi dobbiamo sempre dare un effetto tuning nella vita E ho scelto un volante Momo Design perché comunque lo stile Tenso sfidante signor Guerra Signor Guerra Quindi tutto a lei che mezzo ha scelto Il mezzo più facile l'ho scelto io perché mi piace il misere facile Io la vizio non la mollo e non mollo lo scatofisso Nooo Nooo Senza freni Bra che l'est Come dicono in Francia Come mai? E che dia ce la mandi buona? Ha scelto uno dei più bei mezzi Pensa di vincere? Sono un modesto Perché Sce è parte avvantaggiato Ha anche botte Ci ha giocato la sua Andiamo 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 She'll never have the sacred stone Oh this you crazy mother Oh 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 But I'm not too lazy, oh, I'm not too lazy Oh, I'm not too lazy, oh, I'm not too lazy Oh, I'm not too lazy